Dopo l'aumento delle temperature e trascorsi i giorni piovosi, il Comune di Fano ha ripreso la tabella di marcia per i lavori di asfaltature nella città. I primi interventi hanno riguardato una parte interna delle mure Augustè, via Ugo Bassi, un tratto di via della giustizia per poi proseguire nei prossimi giorni con la riqualificazione del manto stradale dei controviali di Viale Cairoli. Subito dopo andremo nella rotatoria del Codma, termineremo quindi tutta quella che è l'asfaltatura dei lavori di miglioramento che sono stati fatti nell'ultimo mese, oltre che questo anche dei camminamenti nella parte di Mitrofe proprio per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti e subito dopo ci addentreremo sulle mura malatestiane a ridosso della cinta muraria dietro la scuola Gandiglio, in via Cacciafama-Bellocchi e da lì entreremo nella zona industriale, quindi in via Meda, in via Enaudi, il tratto che va dall'uscita del secondo parcheggio dello spazio Conal sino al distributore, l'accesso del Brico e compresi i parcheggi e per ultima via Roma. Diciamo che questa prima sessione di asfaltature verrà realizzata entro aprile. Ad aprile poi riprenderemo con via Giusti, Piazza del Popolo, via Condotti, via Giannone e via Cuoco e da lì fino ad arrivare all'estate continueremo con nel quartiere di Sassogna, diciamo subito dopo la sperimentazione partiremo con via Dante Alighieri, una piccola parte di viale adriatico, via Gentile da Fabriano, via della Marina, via Caduti del Mare, via del Perugino, via Giotto, via Campioni, via Manzoni, via Raffaello Sanzo che sono tutte quelle strade che sono state interessate ai lavori dell'acquedotto da parte di Aset, così anche nella frazione di Sant'Andrea e Villis che c'è stato invece in quel caso un estendimento della rete idrica, anche qui ci saranno diverse vie che verranno asfaltate e all'interno diciamo di quello che invece il perimetro della Comet verranno interessate in nuove asfaltature via Villauscenti, via Tolentino, via Cingoli, via Osimo e via Fraghetto. Stiamo già lavorando a redigere un nuovo piano, importante anche come valore ma anche come tipo di lavoro su strada, che non appena il bilancio sarà approvato andremo a stanziare come risorse per poi affidare i lavori.